ciao allora oggi vi voglio parlare di questo prodotto della bottiglia verde si tratta del goji perfect primer viso uniformante istantaneo allora è questo qui è quello che avevo io era una mini size da 10 ml che abbiamo preso assieme in un video e in un video shopping comunque ho segnato il prezzo ed è guardavo online 30 ml viene 30 euro e 99 ma un prezzo scontabile ad esempio adesso viene 23 e 99 allora è questo con l'applicatore a pompetta dice di essere un primer viso uniformante istantaneo ed è ok formula testata allora intanto vi faccio vedere lo swatch con una piccola clip dove faccio vedere l'applico e e e e e e dunque a questo prodotto effettivamente ha una texture bella illuminante e vedete che una un un push a una pushata un push ed è fa uscire la giusta quantità di prodotto per tutto il viso devo dire che è oltre a essere illuminante anche e idratante quindi io avendo la pelle mista e poi andandoci ad applicare sopra il trucco preferisco usarlo come siero e non come primer per il viso quindi come siero perché sapete che io alla mattina non applico la crema ma solamente il siero e poi vado a truccarmi quindi questo è il posto del siero e in questo modo ed è non mi da problemi con il trucco perché sennò vado a pesantire troppo la pelle e oltretutto la lascia bella uniformata illuminata ed è pronta per il makeup quindi mi ci trovo davvero bene e vedete che comunque sia un un'applicazione aspettate che l'appoggio così un'applicazione va benissimo per tutto il viso evitando il contorno magari labbra e contorno occhi ed rende l'incarnato immediatamente più luminoso e leggermente otticamente più uniformato se non avete particolari esigenze o particolari imperfezioni va benissimo anche da solo senza andarsi a truccare io ovviamente dopo vado a truccarmi per motivi però fa effettivamente un buon lavoro e decidi avere all'interno anche proratinolo stavo leggendo sul sito adesso che è un'altra cosa positiva per il viso fa sicuramente bene e lo applico solamente alla mattina al posto del siero alla sera preferisco prodotti un pochino più idratanti più riparatori più ristrutturanti altri prodotti questa la mattina ma mi trovo bene sia che vado a truccarmi sia che comunque sia in quella giornata che non vado a truccarmi ma comunque non mi fa lucidare la zona la zona t più velocemente non mi unge il viso asciuga non ve l'ho detto forse asciuga molto velocemente quindi andate a massaggiarlo neanche un minuto ed è asciugato assorbito e quindi è valido anche per questo da usare come base per il makeup se usassi sulla mia pelle conoscendomi se usassi un siero poi usassi questo primer e poi dopo andassi a truccarmi sarebbe troppo perché è anche un'azione idratante ma come avevo già detto usato prima del trucco al posto di un solito siero mi piace mi piace tanto e ve lo faccio vedere è questo qui con l'applicatore e mi piace e sinceramente allora 30 euro e 99 prezzo pieno e un poca non so però tenendo d'occhio le promozioni periodiche online o in negozi è un prodotto che può piacermi soprattutto per il periodo invernale perché abbastanza non è che è pesante ma è corposo ecco è un siero corposo che però va benissimo sulla pelle mista o grassa quindi non da particolari problemi sulla pelle secca invece si lo userei proprio come un primer prima del trucco quindi crema questo e poi il trucco oppure crema e questo e basta perché non ha un'azione idratante molto potente però mi piace per il periodo invernale o quando ho bisogno di maggiore uniformità o comunque sia di idratazione che è un siero solito non mi da questo è un ottimo prodotto fatemi sapere se vi è incuriosito o se per caso l'avete provato e come siete trovate io come sempre spero di essere stato utile se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella qui sotto così varrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino? mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrei ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese? ciao